Mmm, ma che cos'è questa cosa, Fede? Non lo sai, Steph! Come non lo sai? Lo sanno tutti nel villaggio che sono arrivati! Che cosa, scusami? I nuovi Lucky Block! I nuovi Lucky Block? Questi, esatto! Sono arrivati finalmente, Steph! Ma sono dei dadi! No, sono i nuovi Lucky Block! No, Fede, chiaramente hanno uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sono dei dadi questi, non sono dei Lucky Block! Ok? Rompilo! Hai visto? Hai visto che non è successo nulla, Fede? Forse era uno guasto! Te l'ho detto! Vedi? Eccolo, eccolo! Oh, cavolo! Questa non è solo terra! Fede, sta succedendo roba strana! Oh, mio Dio! Aiuto, aiuto! Fede! Fede! Perché si sta costruendo una casa, Steph! No, no, Fede, questo è un villaggio! Questo è un villaggio! Oh, mio Dio! Si sta autocostruendo un villaggio, ma sei pazzo! Oh, mio Dio, sto scattando! Oh, mio Dio! E ragazzi, come va? Io sono Fede, Nicky! E sono Steph, che si giocava a Minecraft! Benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft, dove proveremo i nuovissimi Lucky Block! Quello, allora, ti è capitato a sfortuna, Steph! Allora, metti in un altro, dimostrami, dimostrami! Un cubo troll, perché ti ha scritto delle cose, ma non è successo nulla! No, era un dado, come io avevo detto! E quindi, adesso ti farò vedere... Allora, mi raccomando, Steph, devi stare attento, eh! Io questi Lucky Block li ho ordinati su internet e mi sono arrivati dopo tipo tre mesi, una cosa del genere! Quindi... Ma se io metto... Era un sito un po' strano, te lo dico, eh! Ma se io metto una sedia online e scrivo che sono dei Lucky Block, tu li compri, Fede, no? Perché continuo a ripeterti, questi sono chiaramente dei dadi! Allora, ci conviene allontanarci prima di tutto, perché sono molto pericolosi, Steph! Molto, molto pericolosi! Quindi, se non vuoi fare dei danni al villaggio e me li allontan... Ti ignoro, tanto continuo a parlare per i fatti miei e ti ignoro! Vai, vai, vediamo, vediamo! Wow! Un bastoncino, aiuto! Che paura che ho! È colpa tua, Steph, stai guastando tutto oggi! Che paura! Guarda! Questo è bello, questo è bello! Dimmi che questo è bello! Non l'hai mai visto questo effetto nei Lucky Block normali, Steph! Perché questi sono i nuovi Lucky Block! Ma che spettacolo! Stai iniziando a lamentarti di me, no? Questa roba è fighissima! Cioè, guarda cosa ho reso tutto intorno! Sì, ti è finito l'effetto, però è stato molto bello! Eh beh, mi sembra anche giusto! Ok, vediamo! No! Non è finito! Cos'è successo? Sono caduti diversi i Envil, ma per fortuna li ho schivati tutti! E te l'ho detto che sono molto pericoloso! Paura, Steph, vado! Tranquilla, non succede! Era un fulmino o qualcosa del genere, perché ho sentito solo l'effetto sonoro! Sì, beh, ho visto un fulmino che ti ha centrato in pieno! Ah! It's dangerous to go alone! Here! Take this! Grazie! E se noti un bastoncino, due diamanti perfetti per fare una spada! Bellino! Che cosa carina! Carino! Vieni fuori però che non mi piace stare lì dentro! Mi stava dando fastidio, è troppo stretto! Vieni, 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 vieni! Allora, per adesso devo dirti una cosa! Mi sembrano parecchio più gentili rispetto ai Lucky Block! Cioè... Da qualche parte, perché non penso che il tuo cuore possa reggere! Aspetta, 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 voglio indovinare! Se i primi erano dei dadi, questi sono dei tavoli! Vai, Fer, mettimi i tavoli! Non fai ridere, non fai ridere, Steph! Non fai ridere a nessuno! Tieni! Premi! Sicura? Sì! Questo mi sembra pericoloso! Questo è brutto, eh, sì! Questo mi fa un po' più paura! Vado? Sì, 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 sì! Ok, è normale che faccia così? Non lo so, Steph, te l'ho detto, il sito era un po' farlocco, quindi sinceramente non lo so né! Occhio, Steph, ti è arrivata della tina qui addosso! Meno male che me l'hai detto! Ok! Cioè, praticamente, mi ha distratto! Sì! E mentre mi ha messo una TNT dietro... Sì, sì, ne vuoi provare un altro? È cattivo! Dai, è stato emozionante, però! Dai, sì, sono curioso! Buongiorno! Proviamolo qua, Fere! Se va a sfiga ci passeranno anche i villager, mi sembra giusto così! Vado io, eh! Ah, vai, 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 vai! Vado, vado, vado! Ok! Devi farlo una sola volta, credo! Lo faccio quante volte voglio! Io un po' mi sto allontanando, eh! Che succede? Non lo so! Aiuto! Non lo so! Fa un po' ansia, perché tu lo vedi più da così? Sembra che deve esplodere da un momento alla... Beh, 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 beh! Beh, beh! Non è... Ma ho fatto in tempo a vederli che ormai il danno era fatto, Steph! Fere, io li sto combattendo col mio bastoncino! Tranquilla, ti difendo! Il villaggio... Ma sono esplosa, Steph! Lo so! Quindi non ne difeso proprio nulla! Il problema è che devo riprenderli, perché mi li stanno rubando questi creeper, Steph! Aiuto! Sto per riesplodere! Fere! Ok, ce l'ho fatto! Scappa! Veloce, ne hai uno dietro! Ho due cuori, pensate che ho due cuori! Allora, lo devo affrontare! Da dove sono arrivati quei diamanti, comunque? No! E ce li avevo io! No! 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 No, ma anche dei tetti! Ma da dove cavolo arrivate? Ma porca miseria! Ok, si sono fatti esplorare la vicenda, quello si è incastrato! Il segreto è questo! Funziona? No, non credo! Mi sta trapassando? Sì, sì! Uh, Fere, ho un nuovo potere! Ho un nuovo potere, sono fortissimo! Facendo un disastro, Steph! E adesso partirà! Ah... Vai di nuovo! Il mio nuovo potere... Mostraci il suo potere! È ancora più forte questa volta! Sì, sì! È ancora più forte! Guarda come si stanno avvicinando tutti gli animali! Sì, sì, ti stanno tutti fissando! Stanno tutti sentendo il mio nuovo potere! Io non starei così vicino! Ed eccolo! Ma lo bughi, eh! Cioè, lo stai buggando malissimo, Steph! Stai rovinando i miei lucky block, ok? Non è una buona idea comprarli online, secondo me! Invece sì che lo ha... Oh! Oh! Ma questo mi avrebbe potuto schiacciare senza ombra di dubbio! Sì, vabbè, però è un diamante, quindi va benissimo! Ah, c'è anche una nether star? Sì, 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 sì! Bene! Bene! Me li dai un attimo? No! Dai! Quali vuoi? Quelli! Sì, sì, devo controllare una cosa! Vai! Ok! Secondo te? Le recensioni online devi controllare! Sì! No! Dai, Steph! Cioè, facendo così, cosa succede? A parte che abbiamo la discoteca più grande, quindi c'è più spazio per ballare! Tu sei meritato, tu sei meritato, io lo dico, eh! Cos'è il kiwi? Vedo la barra di un kiwi! Lo so! Oh no, oh no! Bene, che succede? Oh no, è un boss brutto, eh! Se è kiwi è un boss brutto! Ma dov'è? È lì in mezzo! È lì in mezzo! Io mi sono perso! E io scappo! Aspetta, ti cerco! Guarda, sono esplosi prima! Ma che cavallo dovrebbe essere kiwi, dai! Non ci credo che è un boss! Eh, non lo vedo più, eh! Qui c'è una costruzione! Era un weeder, comunque! Un weeder molto strano, cioè di un colore strano! Eh, si chiama kiwi! Ci sono un po' di creeper baffati, non so se li hai notati! Potenziati, potenziati dai pulmini, sì! Eh, però kiwi se ne è dato! Ferre, si esplosa? Sì! Va da recuperare le tue cose, tranquilla! Fammi vedere, a proposito, quali sono le tue cose? Ok! Lasciale stare, Steph! Ok! Li ho ordinati, io sono miei! Ferre! Devi smetterla di rubare le mie cose! Mi sembra che ci sia qualcosa che tu non mi avevi fatto vedere! Non c'è nulla, Steph! È troppo pericoloso per te! Ferre! Non ce la puoi fare, Steph! Sei troppo debole! Tu non mi hai fatto vedere! Sì! Cos'è questo? È il lucky block gigante! La versione gigante! Grazie, creeper! Ha un effetto gigante! Eh, penso proprio di sì! Fa cose brutte! What? Non l'avevo vista! Ferre, un'altra! Un'altra! Ma che cavolo sta succedendo? Lo stiamo pazzi! Oh mio Dio, stiamo calmi, eh! 3, 4, è finito, sì? Non lo so! Si è calmato? Sì, sì! Ok! Cioè, tu prendi tutta sta roba e diventi ricco, creeper! Ti prego, non rompere le scatole! Esplodi, così sei contento! Bravo! Eh, siamo qua tranquilli, non ci rompiamo! Eh, mamma mia! Eh, dai, che noia! Vai via! Ah! Sono estenuanti, Steph! Ok, vai! Un attimo! Questo è importante! Ok! Vado, Fede! Vai! 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 Ma io credo... Che tu li rompi sempre! Che io li rompo! Cioè, se ci stai sopra, secondo me, si rompono! Può essere! Ne ho messo uno piccolo per sbaglio! Oh, grazie! Questa mi serviva! Buona! Aspetta, aspetta che me la mangi! Aspetta! Approfittane! Niam, 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 niam! Vado! Gigante! Ma è già successo qualcosa, Steph! È quello di prima! Ha appiattito tutto il terreno! Sì! Io non potrei dire, ma... Cioè, ma che effetto è, Steph? Non lo so! Non ha molto senso! Non ho idea! E qua c'è però una pozzanghera, guarda, c'è pure la piscina! Sì! Sì, bello! Boh! Vabbè! Non so! Vabbè, secondo me comunque era uno tsunami di terra, Ferri, addirittura! Sì, anche se... Vedi? Eccola, eccola! Oh, cavolo! Questa non è solo terra! Ferri, sta succedendo roba strana! Oh, mio Dio! Aiuto, aiuto! Ferri! Ferri! Si sta costruendo una casa, Steph! No, no, Ferri, questo è un villaggio! Questo è un villaggio! Oh, mio Dio! Si sta autocostruendo un villaggio! Oh, mio Dio! Ma sei pazzo! Oh, mio Dio! Sto scattando! Oh, mio Dio! Però è bellissimo, eh! È più bello del villaggio che c'è lì, non ve lo dire! Guarda, c'è pure la ragione che lava! No! È troppo bello però sta cosa, eh! No! Bellissima! Ma sono fantastici! Ma guarda, si è costruita pure una torre! Cioè, siamo pazzi! Siamo davvero matti! Beh, noi costruire villaggio, noi distruggere villaggio! Giusto? A meno che non se ne costruiscono! Qui che deflorisce lava! No, 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 no! Deflor non è lava! Deflor non è lava! Deflor e lava come? Ok! Sento rumori strani! Anche io penso che non sia finita! È finita? Possiamo andare? Non lo so, Fere! Oh, mamma mia! Avere un po' di paura al posto tuo! Mi piacciono, Fere! Hai fatto un bell'ordine! Questi giganti sono belli! Hai fatto un bell'ordine! Questi giganti sono davvero divertenti! Allora, allontaniamoci un po' che c'è un disastro ormai! Oltretutto c'è un villaggio a fianco al villaggio! Un villaggio a fianco al villaggio! Con pilastri altissimi e sta iniziando a bruciare tutto per colpa delle flori slava! Eh, sì! Io direi che, secondo me, sei d'accordo? Sì! Pronta? Ok! Un andato! Pochi d'artificio, Steph! TNT, Steph! TNT! Insieme ai pochi d'artificio! E almeno è a te, ma? Ma porca mia! No! No! Non finisce più, Steph! Aiuto! Ok, siamo vivi! Ma devi vissi i pochi d'artificio a forma di faccia di creeper! Sono bellissimi! Sono fantastici! Ma come che me l'hanno fatto a farvi? Si è fatto, si è fatta notte nel frattempo, aiuto! No, ha impostato lui notte e sono partiti i fuochi d'artificio! Nel mentre c'era la TNT che faceva il delirio! No, no, rimettiamo giorno che qua se no ci arrivano un sacco di mobba adesso! Ci tocca andarcene di nuovo, abbiamo bucato tutto, Fere! È stato bello però, eh! Allora, mai più tre alla volta, eh! Mai più tre alla volta, eh! È troppo pericoloso! Andiamocene via! Attenti ai mostri che sono ovunque! Ci mettiamo di nuovo in un angolino e ne proviamo altri perché sono troppo curioso, perché sono troppo belli! È tre! È sicuro! È uno! E andiamo a vedere! Di nuovo! Eh vabbè! Ma l'abbiamo già visto! Ti prego, non rifare però la pioggia di TNT! No, la pioggia di TNT secondo me era di un altro! Ok, perché avevo paura che posso rifogliarti di TNT! Vabbè, Fere, non guardarli! Andiamo di quello dopo! Vai! Eccola qui! Ma si sommano! Eccola qui! Cioè, per forza! Non può essere una coincidenza! Stef, ti odio! Non può essere una coincidenza! Mi si è bloccato il gioco in questo momento! Io sono scappato nel dubbio! No, mi sei proprio bloccato totalmente! Penso che non potrò più giocare con te, Stef! Sì, guarda che hai combinato! Cosa vuoi dire? Non mi hai crashato Minecraft comunque! Sì, sì, sì! E io ne apro un altro nel mentre! No, smettila! Non che me frega! Stef, smettila! Inception? Aspetta almeno che io torni! Fere, mi ha scritto Inception! Inception! Quindi c'è qualcosa di strano? Sì, ma non c'è nulla! Non lo so! È pazzo sto cosa! Sono un po' pazzo! Ma un po' molto! Ricordiamoci che non bisogna mai ordinare le cose nei siti strani! Perché poi questo è solo conseguenza! Sì! E vabbè, basta! Ma porca miseria! Le rossi tu, eh! Le rossi tu! Ma sei tu che rompi tutto! No, no, le rossi tu! C'avevano due stelline di voto e tu li hai ordinati lo stesso! Guarda! Sono sicuro di questa cosa! Vediamo qua! Inception! Vediamo un pochettino! Io rivolgo il giorno, Stef! Bene! Dimmi! Che stai combinando? Sono lontana da te! Che cavolo è lì sopra? Oddio! La vedi? No! Guarda in alto! Non so da che parte sei! Aspetta, aspetta! Mi metto in creative e voglio venire a vedere cosa sta succedendo! Credo di aver appena scoperto che cosa è Inception! Cosa è Inception? Vieni! Non so dove sei! Ah, forse lì! Credo... Guarda per terra! Praticamente ha preso due chunk dal nostro mondo e li ha capovolti e sparati in cielo! Esatto! Tutto normale, no? Esatto! Perché sì, era esattamente il pezzo di terra che stava lì sotto! Era proprio il chunk di questo mondo! Adesso abbiamo un mondo bucato! È al contrario! E dato che io non avevo capito cosa era Inception, è capitato due volte e ho peggiorato la situazione! Ha notato! Però, sfrutterò questo posto... Ah, non posso mettere i blocchi perché sono... Troppo in alto, allora mi butto! Ciao, Fede! Dovevi finire per forza! Addio, Fede! Ragazzi, lasciate un like e... E se è la prima volta che avete un nostro video potete considerare il livello di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao!